Incidente sul lavoro alla diga Furore di Naro in provincia di Agrigento. Due operai che stavano effettuando lavori all'interno di una cisterna chiamata Calice sono morti precipitando ad un'altezza di 20-30 metri all'interno del serbatoio usato per la raccolta dell'acqua piovane e lo stoccaggio. Pare che fossero impegnati i lavori di manutenzione. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe ceduto la catena che reggeva il cestello dove si trovavano i due uomini. Sul posto Carabinieri 118 e l'elisoccorso. E' stato fatto scendere attraverso una scala anche un medico che ha accertato il decesso dei due lavoratori. Impegnato nell'estrarre i corpi, il nucleo SAF dei vigili del fuoco a perdere la vita Francesco Gallo, 50 anni di Naro e Ghetano Camilleri, 55 anni di Favara. La diga Furore sul torrente Gran Cifone o fiume Burraito e il bacino artificiale nel territorio di Naro costruito tra il 1980 e il 1992 è destinato alla raccolta delle acque provenienti dal fiume Burraito. La diga sbarra il corso del fiume a circa 9,3 chilometri dal punto in cui confluisce nel fiume Naro. Le acque sono utilizzate prevalentemente per l'irrigazione delle campagne limitrofe. La diga si trova poco lontana dal villaggio La Loggia. In questo momento l'invaso non è completamente pieno ed è utilizzato prevalentemente come invaso di servizio della diga San Giovanni con la quale è collegato. La diga Furore